Oroscopo della settimana. Dal 10 al 16 giugno 2024. Ariete. Amore, chi saprà superare qualche complicazione all'interno della relazione d'amore, riuscirà ad avere un rapporto splendido ed ancora più forte con il proprio partner. È vero, qualche discussione non mancherà, d'altronde la settimana è anche lunga, ma se il sentimento è reale tutto si può affrontare. I single cercheranno di affidarsi al loro intuito. Lavoro, le stelle vi spingeranno a valutare delle nuove strade professionali, ed in effetti le occasioni non mancheranno. Toro. Amore, questa sarà una settimana veramente molto bella, sia per le coppie che per i single. Chi è già impegnato in una relazione potrebbe trovare un legame molto più importante con il proprio partner. Chi invece è solo, potrebbe trovare una compagnia molto interessante. Lavoro, per questi giorni di giugno avrete degli ottimi aspetti di Saturno e di Giove, che cercheranno di sostenere quelle che sono le questioni lavorative. Gemelli. Amore, durante questo periodo del mese, cercherete di riflettere sulle vostre emozioni, arrivando quindi a capire di più sui sentimenti, ma anche sui vostri rapporti. Questo varrà pure per tutti quei cuori solitari che magari non sanno ancora ciò che vogliono. Lavoro, tante le opportunità lavorative che potrebbero presentarsi in questi giorni. Alcuni di voi decideranno di cogliarle al volo, ed esse potrebbero pure portare verso delle nuove strade per la carriera professionale. Cancro. Amore, quanto romanticismo nell'aria. La nuova settimana sarà molto piacevole, sia per chi è in coppia che per chi è single. La posizione di Venere sarà particolarmente buona, e favorirà non solo il crescendo dell'amore nelle relazioni, ma potrebbe portare anche delle papabili novità per chi è ancora single. Lavoro, le idee per compiti e progetti nuovi non vi mancano, e proprio in queste giornate di giugno potrete metterle in pratica. Le stelle cercheranno di sostenervi molto da questo punto di vista. Potrebbero giungere dunque dei risultati, e delle soddisfazioni. Leone. Amore, se avete una relazione attiva, essa potrebbe farsi più importante, anche più matura. Potreste sentire una maggiore sicurezza nel rapporto, che potrebbe di conseguenza consolidarsi. Bene dunque con il partner, con cui potrete prendere pure delle decisioni per il domani insieme. Qualche occasione nuova potrebbe presentarsi per i single che vogliono fare delle conoscenze. Lavoro, le stelle di questi giorni del mese vi daranno delle belle occasioni per il vostro lavoro. Anche i rapporti con i collaboratori saranno molto buoni. Vergine. Amore, questa nuova settimana potrebbe regalarvi una grande armonia con la vostra dolce metà. Le emozioni di questi giorni vi piaceranno, i sentimenti non mancheranno. Le stelle potrebbero offrire delle belle occasioni ai single, anche se non sarà poi un periodo in cui le cose fileranno troppo lisce. Qualche intoppo potrebbe esserci. Lavoro, finalmente questo potrebbe essere un buon periodo per portare a termine un progetto lavorativo. Bilancia. Amore. Le giornate del mese potrebbero essere piene di emozioni per le coppie, ma pure per chi è single. Chi ha una relazione potrebbe avere un aumento del rapporto, che sarà ormai sempre più forte. I cuori liberi potrebbero avvicinarsi a qualcuno. Lavoro, le stelle vi porteranno verso delle situazioni nuove, verso dei risultati veramente soddisfacenti. Anche a livello economico non potrete sicuramente lamentarvi. Scorpione. Amore. Amore. Una settimana veramente tranquilla per l'amore, per i rapporti personali ed affettivi. Anche il vostro umore sarà abbastanza buono in questi giorni. I single potrebbero essere pure fortunati, tanto da riuscire ad avvicinare una persona interessante. Lavoro. Miglioramenti possibili sul posto di lavoro, ma l'impegno sarà fondamentale. Non è detto che tutte queste giornate saranno così semplici, soprattutto se si vuole raggiungere un obiettivo difficile e lontano. Sagittario. Amore. Con il vostro partner tutto andrà davvero per il verso giusto, grazie anche alla complicità delle stelle. L'amore potrebbe travolgere pure i cuori liberi, al punto che potrebbero arrivare delle conoscenze interessanti. Lavoro. Gli astri vi daranno delle giornate positive ed ottimali sul piano lavorativo. Avete tante idee, e potrete metterle quindi in pratica. Capricorno. Amore. La vostra settimana potrebbe regalare delle situazioni nuove, anche importanti. Le emozioni quindi non potranno mancare, nonostante potrebbero esserci alcuni piccoli intoppi da dover affrontare. Chi è solo, potrebbe fare una conoscenza nuova. Lavoro. Le energie saranno da sfruttare bene, in modo tale da poter ottenere il meglio sul posto di lavoro. Acquario. Amore. Per voi nati sotto questo segno ci sarà una situazione amorosa abbastanza equilibrata. Sia chi è in coppia che chi è single potrebbe avere a che fare con delle questioni nuove, ma pur sempre molto romantiche. Chi ha il cuore libero da impegni sentimentali potrebbe finalmente fare un incontro fortunato. Lavoro. Occhi ben aperti ai rapporti con i colleghi, perché potrebbero spuntare problematiche. Mantenere sani ed equilibrate le relazioni con i collaboratori sarà importante. Pesci. Amore, questa sarà una nuova settimana del mese che porterà delle emozioni forti, speciali. Le emozioni saranno tante, e potrete godervele a pieno, ma non solo. Potrete finalmente esprimere con leggerezza e trasparenza quello che provate. Questo potrebbe avvicinarvi ancora di più ad una persona. Lavoro. Ottima la situazione professionale, visto e considerato che oltre alle buone occasioni, le stelle vi offriranno pure dei bei colpi di fortuna di cui potrete approfittare. Ovviamente ci vorrà sempre la giusta dose di impegno. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie